Se c'è una sottoscorta da nove anni, se c'è solo l'anticamera di un sospetto sull'amministrazione comunale di Bari, sul consiglio comunale di Bari e sul sottoscritto, allora io rinuncio alla scorta. Io non posso stare in sottoscorta, non posso essere nello stesso tempo considerato un sindaco antimafia e contemporaneamente il Ministero dell'Interno mi manda l'accesso al Comune per verificare se ci sono le condizioni per lo scioglimento.